Ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi della gamma di distanziali offerta da Atena. Tutti i distanziali Atena sono realizzati in lega di alluminio e presentano un trattamento di anodizzazione bianca per prevenire l'ossidazione e donare una gradevole finitura estetica. I distanziali Atena sono offerti in varie tipologie, senza bulloneria, con all'interno solo la coppia di distanziali e le viti in edificaggio, con bulloneria Atena, con all'interno bulloni o colonnette a piantaggio in base alla tipologia di vite in dotazione della vostra vettura e con doppia bulloneria Atena, che possono essere con brugole e bocole premontate oppure con dadi e colonnette a piantaggio. Questi distanziali sono invece utilizzati per allargamenti di carreggiata superiori ai 20 mm. Trova il distanziale perfetto per il tuo veicolo nel nostro shop online.